La spunta al tie-break 15-11 la Capani Volley di Castrovillari nei confronti della Next Atlas di Lamezia in un incontro quello di sabato al Palafilpo al Cardiopalma, squadra ostica quella lametina che va in svantaggio per due volte e per due volte raggiunge i ragazzi di Cocce Trudo e Crispino 25-20, 12-25, 25-21, 23-25 portando l'incontro al quinto set Lascia quindi un appunto ai lametini la Capani ma continua con successo questo campionato lasciando intatto il sogno promozione Due note estonate nella giornata di sabato, un arbitraggio quanto meno mediocre e la mancanza di pubblico ormai fisiologica, contento alla fine il presidente Erbino per i suoi ragazzi Grazie